The European Union, part two. Seconda parte del nostro discorso sull'Unione Europea. Qui parleremo di Symbols of European Union, cioè i simboli dell'Unione Europea, European Institutions, le istituzioni dell'Unione Europea e la Brexit, Brexit. Cominciamo parlando dei simboli. Symbols of European Union. The Symbols of European Union are the flag, che è una bandiera con 12 stelle dorate su fondo azzurro e rappresentano l'unità, la solidarietà, la perfezione. The anthem, il tema, che è l'inno alla gioia tratto dalla nonna sinfonia di Beethoven. The motto United University, lo slogan, il motto, uniti nella differenza. The Europe Day, the 9th of May, il giorno europeo, che è il 9 di maggio. The currency, la moneta, che è l'euro, the euro. Parliamo delle European institutions, le istituzioni dell'Unione Europea. The European Union has three main bodies. L'Unione Europea ha tre corpi principali. Vediamoli. The European Parliament, il Parlamento Europeo. The European Commission, la Commissione Europea. E the Council of European Union, il Consiglio dell'Unione Europea. Vediamoli più nel dettaglio, cominciando col Parlamento. The European Parliament establishes European laws and the European Union budget. Il Parlamento Europeo stabilisce le leggi europee e il budget, cioè le spese che possono essere sostenute, dall'Unione Europea. It is made up of 705 members elected every five years in the 27 member states. È costituito da 705 parlamentari eletti ogni cinque anni nei 27 stati membri dell'Unione Europea. The European Parliament has three places of work. Il Parlamento Europeo ha tre sedi e sono Bruxelles, Belgium, quindi Bruxelles. Lo vediamo qui. La seconda sede è a Luxembourg City, Luxembourg, città di Luxemburgo. Qui vediamo la seconda sede. La terza sede è Strasbourg, France, in Francia. Passiamo ora alla Commissione Europea. The European Commission. It is the executive body of European Union. It proposes laws and policies and monitors their implementation. La Commissione Europea è il corpo esecutivo dell'Unione Europea, propone leggi e politiche e controlla il loro sviluppo. It consists of 27 members, one from each European Union country. È costituita da 27 membri, 27 commissari, uno per ogni stato membro dell'Unione Europea. The European Commission has representative offices in every European Union member, but its headquarters is in Bruxelles. La Commissione Europea ha uffici di rappresentanza in tutti gli stati membri dell'Unione Europea, ma la sede centrale è a Bruxelles. Questa qui. The Council of European Union establishes the General Policy Guidelines of the European Union. Il Consiglio dell'Unione Europea stabilisce le linee guida di condotta politica generale dell'Unione Europea. It brings together government ministers of 27 members, according to the policy area, to be discussed. Raccoglie e riunisce i ministri dei governi dei 27 stati membri competenti per la materia oggetto di discussione. The Council of European Union is based in Europa, Europa Building in Bruxelles. Il Consiglio dell'Unione Europea ha sede nel Palazzo Europa, Europa Building, a Bruxelles. E lo vediamo qui. Brexit, la Brexit. Brexit stands for British Exit. La parola Brexit sta per British Exit, che vuol dire uscita del Reino Unito, dall'Unione Europea. Brexit è la parola con cui si indica la decisione del Reino Unito di uscire dall'Unione Europea. The United Kingdom held a referendum in 2016 to decide about Brexit. Il Reino Unito ha indetto un referendum nel 2016 per pronunciarsi sulla Brexit. 52% of the people who voted wanted to leave the European Union. Il 52% dei votanti scelse l'uscita dall'Unione Europea. People had different reasons for wanting to leave the European Union, to limit immigrants, to be independent of Europe, to do more business. La gente aveva diverse ragioni per voler uscire dall'Unione Europea, per esempio limitare l'immigrazione, essere indipendenti dall'Europa, avvantaggiarsi negli affari. The United Kingdom left the European Union on the 31st of January 2020. 2020. Il Reino Unito ha lasciato l'Unione Europea il 31 gennaio del 2020. Ed ecco l'immagine che rappresenta la Brexit.